Musica Bentrovati tra poco l'appuntamento con l'informazione visita a Caltanissetta del console russo per la Sicilia è stato ricevuto al comune e in prefettura piante di marivane in una casa disabitata del quartiere Provvidenza a Caltanissetta la polizia ha trovato anche un pitbull SOS TCS da Santa Barbara attenzioni puntate su rifiuti scuola elementare, posta e altro a tra poco Bentrovati, nuovo appuntamento con l'informazione visita a Caltanissetta del console russo per la Sicilia è stato ricevuto al comune e in prefettura affrontati temi di carattere locale e internazionale A Caltanissetta visita del console generale della federazione russa per la Sicilia Vladimir Korokov nella mattinata è stato ricevuto in prefettura e al comune un momento di incontro e di dialogo con i rappresentanti istituzionali anche per valutare eventuali prospettive di collaborazione di livello internazionale sul piano economico e finanziario tra l'entroterra isolano e la Russia il paese più vasto del pianeta La visita di cortesia prima di tutto e poi vorrei scoprire meglio Caltanissetta che ho visitato circa due anni fa quando assistivo al concorso dei cantanti lirici Vincenzo Billini e adesso io vorrei capire meglio quale capacità economici e turistici rappresenta questa zona della Sicilia Ci possono essere prospettive di collaborazione? Sempre E' chiaro che la Sicilia in generale e tutte le zone della Sicilia compreso la provincia di Caltanissetta ha tante riserva per lo sviluppo del turismo e anche dello sviluppo dei rapporti tra le piccole e medie imprese Sì, sono sicuro Ti ha incontrato finora e cosa è emerso? Ho incontrato i dirigenti del vicario della prefettura il prefetto si trova adesso a Roma come mi hanno detto e abbiamo scambiato delle opinioni sulla prospettiva dei rapporti Come giudica il momento in Russia e del comprensorio? In Russia dico che c'è anche problemi economici come dappertutto nel mondo La Russia è integrata nell'economia mondiale Perciò non ci manca anche mancano queste difficoltà ma in grosso modo il popolo è molto concentrato adesso su come sopravvivere in questa situazione e sopravvivere in senso positivo Questo è il primo Il secondo la consolidazione tra il popolo russo adesso è più forte come mai Ci sono delle tensioni di carattere internazionale Posso dire che le sanzioni che hanno dichiarato sanzioni economici la Russia potrà sopravvivere Queste sanzioni giocheranno un ruolo per il mio paese malgrado tutte difficoltà nei fin dei conti giocheranno un ruolo positivo perché sono sicuro che noi troveremo la possibilità di creare il nostro sistema di pagamento al di là della visa di Mastercard per diminuire la nostra dipendenza da qualsiasi sanzione La politica estera debba essere indipendente nel nostro paese e debba essere in corrispondenza alle norme morali sulle quali è creato il diritto internazionale Piante di marijuana in una casa disabitata del quartiere Providenza la polizia in un controllo trova anche un pitbull Piante di marijuana alte circa 30 centimetri sono state rinvenute durante un controllo della polizia in una casa disabitata di via Palestro nel quartiere Providenza a Caltanissetta Gli agenti erano intervenuti per un caso di allacciamento abusivo alla rete elettrica pubblica rinvenute anche foglie essiccate dello stesso vegetale e una stufa alogena in uno stanzino un cane di razza pitbull Sul posto un trentenne ha dichiarato di fruire di un magazzino dichiarando di aver effettuato un allaccio abusivo per non lasciare il cane al buio Ci spostiamo nell'agrigentino quattro arresti per Rissa a Palma di Montechiaro A Palma di Montechiaro carabinieri e polizia hanno fermato quattro cittadini rumeni per Rissa Catalino Manex Negoita 18 anni Costantin Negoita 38 Robert Moisei 38 e Madalina Serban 18 L'episodio sarebbe scaturito dopo una cena per futili motivi In diversi hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Licata con prognosi dai 5 ai 10 giorni e 10 punti di sutura per uno I quattro dopo la dichiarazione in stato d'arresto sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo Giornata dei perseguitati per la fede Ospite Padre Valentino Salvoldi a San Pio X a Caltanisset Oggi è la giornata mondiale per i perseguitati di fede a San Pio c'è un ospite ad eccezione Sì la nostra parrocchia è stata sempre attenta alle missioni siamo nel 50 una chiesa nata nel congiglio per i laici e vogliamo proprio formare i laici all'annuncio del Vangelo alla luce anche della lettera dell'esortazione del Papa questo annuncio gioioso del Vangelo e abbiamo voluto in questa settimana di spiritualità per tradizione e gli esercizi spirituali un teologo un docente di filosofia di morale che ha spesso tutta la sua vita proprio inviato anche dalla Santa Sede per la formazione del clero giovane per le chiese d'Africa e d'Asia uno scrittore e l'abbiamo voluto che fosse in mezzo a noi padre Valentino Salvoldi dell'italiano però un cosmopolita tuttologo ma lui stesso sta attirando tantissimo in questi giorni in queste messe una fiumana di persone anche oggi lunedì e domani martedì l'avremo in mezzo a noi per poco in verità perché mercoledì poi andrà a Scoglitti a Vittoria dove riceverà anche la cittadinanza onoraria e lo abbiamo voluto come testimone e come testimone gioioso di questo Vangelo che ha portato anche in mezzo a noi intensa la sua esperienza in Africa dunque più di 40 anni che vado Africa e Asia ho visto 36 paesi africani da 7 sono stato espulso queste cose le dico due volte davanti al platone di esecuzione lo dico per far capire come noi missionari siamo sistematicamente a rischio della nostra vita ecco si pensi che nel 2012 101 mila cristiani sono stati ammazzati semplicemente perché cristiani uno ogni 5 minuti mai in tutti i secoli precedenti è capitata una cosa del genere però forse questa è un po' la logica del cristianesimo essere folli per amore seguire Cristo che ti dice quando sei perseguitato allora il cristianesimo fiorisce lei ha scritto uno di noi è Dio possiamo approfondire meglio questo argomento uno di noi è Dio ecco in tutti i libri che ho fatto c'è sempre questa idea Dio diventa uomo l'uomo diventa Dio questo è il grande messaggio dove è Dio comodo a cercarlo nell'alto dei cieli bisogna cercarlo nell'ultimo nel povero nel sofferente in ciascuno di noi nei momenti belli nei momenti difficili Dio si è fatto uomo l'uomo si fa Dio io sono Dio questo messaggio è altamente liberatorio perché ti mostro quello che dirò anche questa sera nella conferenza la bellezza e la gioia del Vangelo un Vangelo che attira si è presentato bene una fede cristiana che è semplicemente fantastica si è presentata nel suo aspetto di gioiosità la bellezza salva il mondo e questo è il grande messaggio che cerco di portare tutti come teologo morale non il peccato il peccato c'è Amen Alleluia non il peccato ma la misericordia del Signore SOS TCS dal villaggio Santa Barbara attenzioni puntate su rifiuti scuola elementare posta e altro SOS TCS da Santa Barbara cosa c'è che non va? Salve allora io innanzitutto mi chiamo Vincenzo Lunetta sono un cittadino di Caltanissetta come gli altri solo che qua a villaggio Santa Barbara ci sentiamo abbandonati dall'istituzione e da tutti motivo principale noi abbiamo un scarico abusivo all'entrata in villaggio Santa Barbara che è stato richiamato già se non erro da agosto dell'anno scorso e non si è fatto ancora nulla quindi vogliamo maggiore attenzione affinché tutte queste ternite e queste cose tossiche vengano urgentemente tolte visto e considerato che come cittadini noi paghiamo le tasse crediamo all'istituzione quindi che l'istituzione si dia subito una mossa poi volevo segnalare anche la scombarsa della scuola elementare dopo che si sono spesi parecchi soldi per il prospetto alla fine ha avuto un piccolo cedimento anziché di verificare i motivi di questo cedimento è stata chiusa totalmente non parliamo della caserma dei carabinieri la quale per noi era una sicurezza non abbiamo aiuto tanto è vero che non sono cose sono statistiche non sono cose che io invento ogni mese ci sono 4 o 5 scassi di appartamenti tutto questo succede anche se devo ringraziare io ai carabinieri e alla polizia municipale la quale ci hanno dato sostegno e supporto con delle volande via di seguito senza che hanno sede però purtroppo sapete bene è il tempo che girano e la cosa è fatta la posta è stata tolta ci avevano detto che dovevano portarla di nuovo eccetera ma prima l'hanno tolto e ancora noi siamo senza posta non per me perché alla fine io sono ancora giovane ma le persone di una certa età essendo che gli autobus non so se lo sapete qua a Santa Barbara sono ogni ora un'ora e mezza non ricordo bene un'ora un anziano che deve andare a Caltanissetta alla posta generale per andare a fare un versamento oltre che deve aspettare là con tutte le problematiche che ha un vecchietto un anziano e deve stare là un giorno a Caltanissetta per poi prendere la coincidenza dell'autobus quindi vogliamo maggiore attenzione che questa volta le nostre parole non vanno avendo e che prendete atto di quello che noi diciamo un giovane cantante milanese Joshua Algeri con la canzone a testa alta ha vinto il primo premio del festival Città di Caltanissetta al secondo posto Claudia Iacono con Io sto crescendo Algeri ha vinto anche il premio della critica ci fermiamo per la pubblicità a tra poco Don Milani Raid Ladresco a scuola portati via diversi computer Raid Ladresco nella notte nella scuola elementare Don Milani portati via diversi computer e materiale multimediale e sgredita a sorpresa stamani per il personale dell'istituto alla riapertura della scuola da una prima ricostruzione dell'episodio i malviventi al momento ignoti avrebbero forzato un'apertura dell'edificio danni da quantificare indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi a Niscemi un giovane è stato segnalato dalla polizia all'autorità giudiziaria dopo essersi rifiutato di esibire documenti durante un controllo nella circostanza il protagonista della vicenda che avrebbe anche oltraggiato gli agenti sarebbe stato sorpreso a molestare dei ragazzi per strada in stato di ubriachezza problematiche di governo clinico in endoscopia ginecologica convegno scientifico sabato a Caltanissetta sabato prossimo Caltanissetta ospiterà un convegno scientifico sul tema problematiche di governo clinico in endoscopia ginecologica al quale parteciperanno 43 ginecologi cultori della materia è un appuntamento importante perché vede tutti i più importanti rappresentanti delle scuole di endoscopia ginecologica della Sicilia e non solo verrà il professore Vittori da Roma e ci confronteremo in questa occasione sia sulle problematiche legate alle tecniche chirurgiche laparoscopiche e isteroscopiche sia l'isteroscopia che la laparoscopia sono all'avanguardia oggi in Italia e parleremo delle nuove tecnologie anche perché la scienza ci mette sempre a disposizione nuovi strumenti sempre più miniaturizzati sempre più piccoli oppure la tecnologia robotica che si sta fermando progressivamente in tutta Europa inoltre parleremo dei problemi economici che in questo momento tutta la società civile è particolarmente colpita e anche la sanità in tal senso ha delle problematiche ovviamente in maniera scontato e quindi discuteremo facendo possibilmente anche delle proposte per come risolvere i problemi in questo momento di difficoltà economica sono due argomenti che debbono rispettarsi reciprocamente perché non può esistere altra tecnologia senza un supporto economico quindi dobbiamo entrare con la realtà dei fatti e confrontarci con questa realtà sport calcio serie D tonificante vittoria dell'Akragas in casa contro l'Orlandina 5 a 0 in eccellenza San Cataldese KO sul campo della Parmonval 3 a 1 battuto anche il Campofranco 3 a 0 ad Alcamo pari del Serra di Falco in casa con il Raffadali 1 a 1 vi lascio alla rubrica salute e benessere vi ricordo che l'informazione continua su tcsnews.tv e attivo il canale 647 di tcsp1 con la programmazione indifferita di un'ora grazie per l'attenzione e buon proseguimento grazie per l'attenzione